Ma che è successo? Ma no, lo so, è scoppiato, è scoppiato ma le ducchevo È giusto per mettere le cose in chiaro qua, eh Per ricordare come stanno le cose Giusto Soprattutto a te Cioè, ma i botti arrivano pure prima di lui? Sì, a sorpresa Vabbè, debuffo così, senza senso Vabbè, ok Eh, non lo so Ma sei arrabbiato? Come? Sei arrabbiato? Ogni tanto Con lei? Eh, non vuole accettare che alla fine è qui È tutto tuo Eh, che il contratto sta un po' Scricchiolando Traballa il contratto Traballa Dobbiamo rivedere i termini Mi dovrai mantenere te, Giovannino Pensa che è qualcosa stupendo Eh, lo vedi, già mi saluto appena glielo ho detto A sorpresa, a sorpresa un altro botto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti